Carissimi Alessandra e Stefano, siete venuti insieme nella casa del Padre perché la vostra decisione di unirvi in matrimonio riceva ora il suo sigillo, la sua consacrazione, davanti al Ministro della Chiesa, davanti a questa comunità. Se dunque è vostra intenzione di unirvi in matrimonio, datevi la mano destra ed esprimete davanti a Dio e alla Sua Chiesa il vostro consenso. Io, Stefano, accolgo te Alessandra come mia sposa. Io, Alessandra, accolgo te Stefano come mia sposa. Ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà. Ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà. Musica Grazie a tutti.